che ve ne pare un uomo aveva due figli si avvicinò al primo e gli disse figliuolo va lavorare nella vigna oggi ed egli rispose vado signore ma non vi andò il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa egli rispose non ne ho voglia ma poi pentitosi ti andò quale dei due fece la volontà del padre